Grave episodio quello registrato ai danni di un'infermiera che si trovava in servizio nel reparto di Alisi Covid all'ospedale di Giulianova, dove un uomo, per motivi ancora da chiarire, ha strattonato e insultato l'operatrice. L'aggressore è anche riuscito a impossessarsi del cellulare dell'infermiera, che è riuscita a divincolarsi e fuggita verso il vicino piazzale. Il malintenzionato l'ha inseguita e le ha lanciato addosso il telefono mobile prima di scappare. La donna è stata subito curata al pronto soccorso dove le sono stati assegnati dieci giorni di prognosi. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri ai quali l'operatrice sanitaria ha presentato denuncia. A lanciare l'allarme sull'aggressione è stata la FP CGL che esprime solidarietà nei confronti della lavoratrice e sollecita l'adozione di misure a tutela del personale nei luoghi di lavoro. È un fenomeno quello delle aggressioni al personale sanitario che sembra sempre molto distante, relegato alla cronaca nazionale. Purtroppo sono fatti che si registrano anche nei nostri presidi ospedalieri. Diversi interventi in questi mesi sono stati fatti dalla ASLE di Teramo. Chiediamo maggiore attenzione, tempi più rapidi, maggiore sicurezza per gli operatori sanitari. Non a caso è stata istituita una giornata contro la violenza al personale sanitario. In quell'occasione il nostro slogan è stato stop alle aggressioni, prendiamoci cura di chi ci cura. Avete già chiesto un incontro alla ASLE di Teramo? C'è stata una missiva in cui abbiamo chiesto che si accelerassero i tempi per mettere in sicurezza tutti i presidi ospedalieri, tutti i distretti sanitari, ogni luogo dove gli operatori sanitari si trovano ad operare, spesso in solitudine. Come sta la signora? A qualche giorno di prognosi dovrebbe, diciamo che il disagio è stato più quello di vedersi, di vivere un'aggressione di quanto non lo sia la violenza, di quanto non lo sia stato i segni fisici.